E' stata fissata per il 3 marzo 2017 l'udienza in corte d'assise per il processo a carico di Peter Polverini, il 24enne di San Giustino Umbro, accusato di aver ucciso Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vite con la testa fracassata la mattina del 12 luglio scorso sul greto del torrente Afra Sansepolcro. Il giovane si trova in carcere dallo scorso settembre. La chiusura delle indagini è arrivata nei giorni scorsi, dopo che sul tavolo del PM Giulia Maggiore sono arrivati i riscontri della genetista Isabella Spinetti e gli ultimi risultati dell'autopsia. Per il giovane l'accusa è quella di omicidio volontario senza aggravanti. Secondo le prime indiscrezioni che emergono, la 41enne biturgenze sarebbe stata prima presa pugni, poi il suo assassino le avrebbe stretto le mani attorno al collo ed infine le avrebbe finita con un martello. Molto probabilmente Peter Polverini richiederà il rito abbreviato, in caso di condanna la pena è ridotta di un terzo. In questo caso a giudicarlo non sarà la corte d'assise ma il GUP, una scelta quella del rito abbreviato che potrebbe comportare un cambio della data del processo. I legali del 24enne inoltre potrebbero chiedere che il giudizio alternativo sia condizionato ad una perizia sulle facoltà mentali del 24enne.